Google ha presentato ufficialmente il suo sistema operativo Oreo Chi si aspettava un mega evento, un lancio in grande stile, sarà rimasto profondamente deluso, le novità sono tante, e dopo mesi di attese e previsioni di ogni sorta, Google ha presentato ufficialmente il suo nuovo sistema operativo, ma non c'è stato affatto il classico che note con cui il colosso svelava tutte le novità punto per punto. Nelle scorse ore, come da previsione, Google però ha confermato che la O di Android 8 si riferisce proprio a Oreo, il biscotto nero con la crema bianca all'interno. . La nuova versione del sistema operativo, attesa in tutto il mondo dai fan delle Robottino, sarà inizialmente disponibile solo per gli smartphone Pixel, ma nei prossimi giorni potrà essere scaricato da tutti gli androidiani, come ad esempio i possessori del nuovo Nokia 8. . . . Google Oreo è caratterizzato da dotazioni di sicurezza più elevate, il sistema ha infatti incorporato Google Play Protect e nuove funzionalità come i controlli di installazione delle applicazioni a livello sorgente, importanti condizioni di sicurezza anteriori e centrali nelle impostazioni e una protezione ancora più elevata a tutela della privacy e contro i maluare. . 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